Oggi desideravo manfredi con la ricotta. Due ingredienti ricotta, salsa di pomodoro, manfredi, olio e un tocco di cipolla. Mi faccio ricordare quando io e voi eravamo bambini a casa nostra. Una po' due mesi manfredi e la ricotta si mangiava. L'odore di salsa fatta in casa. Sale quando basta, puoi assaggiare man mano e che fai? Un po' di basilico non glielo metti? Aspendimento. Fate cuocere la salsa per 20 minuti. Fatelo a casa, semplice ma buono.